Il desiderio di accarezzare la tua anima, di assaporare il tuo respiro e vibrare nella tua essenza, attratta da invisibili onde che proiettano il mio sguardo nel tuo, un temporale improvviso nel turbine concentrico che avvolge solo noi due, i tentacoli della luce che gloriosa dona un sorriso il sapore della vita in un dolce e appassionato bacio.